Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, non sono a Viareggio, sono a Oggiono e questo sarà il carnevale. Sono qui con Zoro di One Piece, che non lo vedo più, eccolo, Zoro di One Piece. Ciao! Vi farò vedere un po' i carri, un po' il carnevale e detto questo, buona visione. Ah, se non l'avete capito, sono lo sceriffo perché Ryan è un cavallo. Grazie a tutti. 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 E noi ci vediamo in un prossimo video e sarà il video dedicato alle Olandia con il carnevale tutto colorato.